Milano è grigia! A Milano non c'è niente da vedere! Noi non pensiamo che sia così! Crediamo che Milano sia una città tutta da scoprire! Una bella città! È bastato davvero poco aprire gli occhi guardarsi un po' in giro per capire quali tesori fossero nascosti dietro ai cancelli nei chiostri nei parchi e nei palazzi della nostra città Abbiamo deciso di condividere questa nostra scoperta ma abbiamo deciso di farla in un nuovo modo senza libri templia o guide turistiche Lo facciamo con il teatro! Lo facciamo con i dramatur! Dimenticate le solite gite scolastiche Noi viviamo storie leggende leggende tradizioni personaggi Noi! Beh, non noi, noi i nostri attori Saremo noi a portarvi in giro per la città negli angoli nascosti nei chiostri sconosciuti tra i vicoli dimenticati Vi racconteranno la storia della città E ovviamente anche le proprie Sarà come andare a teatro senza sedersi in poltrono O come studiare senza aprire un libro Siete pronti a vedere la vostra città in scena? Siete pronti a vedere la vostra città Siete pronti a vedere la vostra città Siete pronti a vedere la vostra città Grazie.